Fervono progetti e attività per la neo-inaugurata Casa della Musica in Piazza della Motta a Pordenone. Sabato ha infatti aperto le sue porte ai visitatori interessati e curiosi per un Open Day, un'occasione preziosa per provare gratuitamente le lezioni e gli strumenti musicali. Abbiamo pensato di fare queste due giornate di scuola aperta per dare l'opportunità a chi lo desiderasse, bambini, ragazzi e anche adulti, di sperimentare e provare degli strumenti musicali in questa bellissima struttura e di aprirla anche nel contempo per farla conoscere a tutta la città. Il progetto Casa della Musica è un progetto pensato per far conoscere e sperimentare tutte le tipologie di strumenti, quindi vengono fatte sia di classico sia di moderno e quindi vengono fatte delle lezioni individuali e collettive, quindi ci sono diversi gruppi che interagiscono all'interno anche con diverse associazioni del territorio, musicali ovviamente. Rigenerazione urbana e culturale si fondono in un progetto che darà un nuovo respiro artistico a Pordenone. A puntualizzarlo è l'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Alberto Parigi. La ex biblioteca è diventata Casa della Musica ed è bellissimo vedere un edificio che era chiuso e abbandonato, rinato, oggi ci sono ragazzi, bambini che provano strumenti, è segno di un'amministrazione che punta alla rivitalizzazione dei propri edifici ma anche delle piazze. Qui siamo in Piazza della Motta e la Casa della Musica a Natale offrirà un programma di concerti trasformando la riqualificata Piazza della Motta in un nuovo polo di eventi. Voglio anche ricordare che a giorni la Casa della Musica verrà intitolata Elisabetta Imelio, musicista pordenonese prematuramente scomparsa, è un omaggio a lei e simbolicamente anche a tutti i musicisti pordenonesi di quella scena del great complotto qui rappresentati, ma non solo del great complotto, anche a tutti gli altri musicisti che costituiscono con Pordenone un legame speciale, perché Pordenone è un legame speciale con la musica.